allora sacoccione fan club atto secondo siamo qui nei pressi di macerino in un tratto apparentemente abbastanza semplice comunque vedete che c'è da lavorare ma adesso vedremo io ho puntato tutto sull'architetto giorgini che oggi mi sembra piuttosto in forma è come la carrozzella quel gioco avanti voi altri girate le ruote laggiù stanno aspettando e si stanno un minimo preoccupando ma ora vedremo roberto fani in azione quindi non c'è problema è il rodaggio addirittura roberto fani questo fa la miscela al 28 forza fani la quarta legna bisogna tagliare stamanta fani ecco fani in azione guardate la classe guarda eh guarda che ci vuole guarda eh guarda ecco è cascato giù anche lui fani puttana di quella eva lei mi fa decadere in questo modo un mito no mi schiazzo adesso dai guarda niente guarda 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 eh ce l'ha fatta ma insomma devi volare un po' avanti un altro luna deciso qui non sono ammessi errori eh non sono ammessi errori è il pane mio dai forza deciso vado a fare io ancora no dai deciso senza fermarti è luna vai si che una femmina si chiamerà dura wow dritto dritto devi andare niente boom mannaggia il pane mio adesso figurate un po' figurate un po' il compagnatico com'è luna mia hai detto questo è il pane mio chi è questo ragazzo che arriva Troiani ho richiamato anch'io stiamo qui per sotto Roberto ecco Aglio è un peccato Aglio il deficiente Aglio vieni giù forza vieni a spalla con la motocicletta dove sti vieni su si dai via via chi è eh ok rap occhia paletta stiamo a portarla qua tu si attenti che la canna si fiera ragazzi Giorgini mi raccomando eh Giorgini io mi sono giocato tutto su te eh anche tu tu telefonare però c'è un amico allora qui la questione si ingarbuglia perché praticamente si sta facendo tardi e non non si raccapezza il verso per dirla proprio com'è un po' si questo col due tempi che gli occhi la mattina non si non si non si non si Niente, non so capace Vai Giorgini, sei tutti noi, andate da là, che se fate sotto facciamo lo danno, questo architetto qua sta caro, lì, mettete da là Mauro Vai Giorgini, ecco, fermi alla prima curva, cominciamo bene L'architetto Giorgini in difficoltà, è uno dei nuovi fan del saccoccione fan club, lo vediamo un po' imbastito direi Niente, no, non ci siamo architetto Giorgini, deve dare meno gas, un po' di frizioncina così, giusto Trillo? Sì, giustissimo Roberto, gli vado a dare una mano Che è successo? Va bene, va bene, back flip, back flip Giorgini, back flip, ok, dai Allora, io direi che possiamo chiudere qui con il legamento in diretta dalla salita dei miracoli, dal calanco dei miracoli È salito lo strillone, è salito lo strillone, ora si impunta lì lo strillone, è lì, quel punto ti guarda Tac, oh, ma come se l'avessi visto Niente, no, 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 non ci siamo Oh, se non gollano Guarda, 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 guarda Ci fa il professore, ci fa Che devi prendere una parata, si sa che ci deve essere Avanti Giorgini Ma che c'è, le ciabatte, che porti? Taglie? Si scivola E se scivola? Si attacchi, no? Guarda un po', si attacchi Arriva l'elettrico, l'elettrico Ops, oh, oh, oh Letteralmente strascinato, vai, che fagli vedere come si fa Urca Massimiliano mio Fermate, fermate, fermate Fermate, 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 che qui stai in punto critico questo Criticità 5, eh, Massimiliano? Ok Massi, Massi A destra deciso, ruota alta davanti Forza, vediamo se ci riesci Su, forza Vai Deciso però, eh Vai Perché i professori Bisogna saperli fare Se non l'avete fatto il corso Non li potete fare, giusto? Giusto Giurgini Continua a fare i disegni con l'autocard Tu però, eh 5 euro ti sei giocato Io proporrei il verso dell'arena, che dici? Che? Il verso dell'arena fa Ma bevi meno la sera, ma bevi meno Chi è? Che fai a poco Chi è questo ragazzo? Oh ragazzi, chi è l'arena? Io, io Vieni, te adoro E' andato da sotto? Mannaggia Fermi un po' Allora, il prossimo filmato E poi staccheremo la diretta Perché il satellite L'abbiamo pagato fino a una certa ora Non è che possiamo pagare a Bambera Il prossimo collegamento Sarà una sfida di Alio E in Palio ci sono Quanti siamo? Io metto 5 euro per Alio Ci sono 15 euro Io 5 euro per Alio E lui è ricco perché Giorgini quanto mette lei? Un milione? 5 euro Tu sei giocato il film Allora, però E' chiaro che se perdi Ti tocca a cacciare Almeno un po' ampevato Vabbè Ok Allora Qui, eh Allora io Scommetto Che ti fermi qui Qui dove indico col dito Io scommetto e mi fermo prima Ho notato che però Hai fatto una scommessa Hai fatto una scommessa Hai fatto una scommessa È tutto marzupio Ti ha dimaglito tutto Ti ha sciaffato tutto Io sento del rumore E' Canulli che sta scaldando il monofreddo Chi è? Occhio qui Che questo c'è cascata sotto qui Oddio mio caro Oddio mio caro Ragazzi Dal canto di Fra Matteo Il caro numero 8 Canulli in toni Non sente Venite Venite Adore Niente Non nemmeno fanno E comunque Insomma qui consumiamo Gomme, benzina, olio Avanti Canulli Conte, cavalli Canulli Proietti Della Ronca Chi è? Sopra ma guardate Adesso Va bene dai Vediamo a Lionazione Poi più tardi Ci ricolleghiamo Ciao